Il consorzio è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria tra imprenditori ed è un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Con il termine consorzio si fa riferimento a due fatti specie, i consorsi anticoncorrenziali e i consorsi interaziendali. Per quanto riguarda i consorsi anticoncorrenziali, questi sono contratti conclusi da due o più imprenditori che svolgono attività uguali a offine per limitare e regolare la concorrenza reciproca, mentre i consorsi interaziendali sono contratti stipulati tra più imprenditori per disciplinare rispettivamente determinate fasi delle loro imprese. Sotto il profilo normativo vi sono due tipi di consorsi, i consorsi con attività esterna e i consorsi con attività interna. Per quanto riguarda questi ultimi, quindi i consorsi con attività interna, questi sono contratti che vanno a regolare i rapporti tra consorziati e magari esolve eventuali liti e vigila sugli obblighi assunti, mentre i consorsi con attività esterna, oltre ai compiti che assume il consorzo con attività interna, questi regolano anche i rapporti tra consorziati e terzi. Per quanto riguarda i consorsi con attività esterna, questi sono disciplinati da sia disposizioni generali ma anche particolari. Per quanto riguarda le disposizioni generali, queste concernono sulla forma e il contenuto del contratto, che deve essere a forma scritta e deve contenere la durata, l'oggetto del consorzio e gli obblighi assunti dai consorziati. Per quanto riguarda la durata, questa deve essere decisa dalle parti, deve essere per forza tempo determinato e se non è inserita all'interno del contratto, questa dura dieci anni. La partecipazione. Possono partecipare al consorzio solo gli imprenditori e se sono inserite delle condizioni di ammissione, il contratto è considerato aperto e la partecipazione non è subordinata al consenso degli altri consorziati. Mentre se non vi sono le condizioni, il contratto si considera chiuso e la partecipazione è subordinata alla volontà unanime dei consorziati. Per quanto riguarda gli organi consortili, questi sono l'organo direttivo, il collegio sindacale e l'assemblea dei consorziati. Per quanto riguarda l'organo direttivo, questo svolge funzioni amministrative. Il collegio sindacale svolge funzioni di controllo amministrativo e l'assemblea dei consorziati approva il bilancio, rinnova le cariche e svolge analisi delle proposte. Infine, per quanto riguarda recesso, esclusione e scioglimento, al socio che recede deve essere liquidata la sua quota di partecipazione al patrimonio consortile. Le disposizioni specifiche che riguardano il consorzi con attività esterna regolano l'attività con i terzi. Le associazioni temporanee tra imprese Le associazioni temporanee sono contratti di natura associativa che vengono conclusi tra più imprese per o realizzare un'opera di importanti dimensioni o per concludere un'affare rilevante. Il contratto non determina la nascita comunque di un'organizzazione comune, ma disciplina gli effetti che intercorrono tra le parti. Non hanno comunque una loro specifica disciplina perché l'associazione temporanee tra imprese costituisce un contratto atipico. Capitolo 6 La società in generale Il contratto di società Ex articolo 2247 del Codice Civile